un po di pasta frolla e tanta creatività scusate ragazzi purtroppo perso il primo pezzo di video dove impastavo in tutti i casi dopo aver raffreddato la stendiamo e poi avvolgiamo nel mattarello alcuni dischetti li ho fatti come avete visto con un coppapasta e l'altro l'ho messo qua per creare diciamo la griglia basta semplicemente infarinare la griglia e questo è il risultato quindi mettiamo la nutella congelata nei dischetti e poi tagliate la griglietta di frolla e l'applicate sopra il dischetto io le ho fatte anche alcune con della crema spalmabile al pistacchio congelata poi ho creato dei disegnini a piacere in questo caso io ho dei fiorellini sempre con un tagliapasta e poi ho applicato delle stelline piccoline ovviamente voi potete utilizzare la vostra fantasia e creatività mi raccomando il dischetto di nutella deve essere sempre più piccolo del dischetto di pasta frolla perché in cottura man mano si scioglie e quindi si spande per preparare questa frolla ho utilizzato quella dei coniglietti sopra in alto troverete il link in descrizione mettiamoli in una teglia foderata da carta forno li trasferite in una teglia foderata da carta forno e li infornate a 160 gradi per circa 30 minuti come potete vedere questo è il risultato finale spero che questa video ricetta vi sia piaciuta io vi lascio alla prossima un bacio